La base per fare il live senza base? Qual è il numero? Ci pressi? Qual è la quarta? Sono finita nella base. Vediamo cosa è la seconda. Una, due, due. Con la base, con la base. cominciamo da capo un po' di spegni mi rimancio a m o l e l o 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 COO O 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 la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso sai che a tipo come adesso non lo sono stato mai e quando mezzanotte viene se davvero mi vuoi bene pensa che me ne è ancora il nevo e da un pugno chiuso la carienza di moreno te lo detto bene abbiamo finito sanremo hai capito amicizia lunga e fatti chiari parlavo a carlo conti pensavo di parlare a bontari che te lo dico anche per guida non sono anche a lisa e nemmeno a risa non capisci straordinario te ne porto un paio il cuore nel giro è il pesci più grande dell'acquario ciao